Quello del giocare con l'interno. Devo dire che in tutti gli anni in cui le squadre con cui ho lavorato hanno avuto una stagione di successi, erano tutte annate dove avevamo almeno uno barra due giocatori che fossero veramente efficaci nel gioco interno. Perché credo che avere l'opportunità di giocare con i giocatori interni, mettere la palla vicino al canestro, alla lunga dia dei vantaggi. Mi rendo conto che oggi il gioco, soprattutto andando a livello un pochettino più alto, ha delle tendenze diverse. Perché? Perché cambiano un po' le caratteristiche dei giocatori. Soprattutto nei lunghi non ci sono così tanti giocatori abili e con tecnica nell'uno contro uno spalle canestro. Se penso soprattutto ai giocatori di scuola americana, la tipologia che in questi anni va per la maggiore sono soprattutto di giocatori molto atletici, dei rollanti, gente che corre molto bene il campo, atleti straordinari, ma con meno avvezzi alla tecnica individuale nell'uno contro uno. Per questo, soprattutto negli ultimi stagioni, si vedono tante squadre che per mantenere il vantaggio di andare vicino al canestro ci vanno con gli esterni. Cioè non è una cosa, diciamo, degli ultimi anni. Diciamo che se vado un po' indietro con la memoria, diciamo, forse una delle primissime squadre che aveva cominciato a usare gli esterni, a mia memoria, con grande efficacia fu la mensana a Siena quando ci metteva Rome in Sato. Poi fu anche una delle prime a usare il 3 come anche nel numero 4 e creare, voglio dire, quella che è la tendenza di oggi dove alla fine si va meno perché il gioco è diventato un pochettino più perimetrale. Ad oggi, voglio dire, i numeri 4 che andiamo a cercare nella costruzione delle nostre squadre sono principalmente dei tiratori, gente che può aprire il campo, che fa pick and pop. E quindi questo fa sì che, dato che in un giocatore non è che si possono ricercare tutte le caratteristiche possibili, se hanno un pochettino più in quell'aspetto, magari ne hanno un pochettino meno nel gioco spalla-canestro. Sono sicuramente meno bloccanti, hanno caratteristiche diverse. Il gioco si sta evolvendo in una direzione un pochettino diversa. Però quando riusciamo comunque ad avere un certo tipo di efficacia nel mettere la palla vicino a canestro, le squadre che lo fanno, soprattutto fino a un certo livello, secondo me alla fine ne hanno dei vantaggi. Io penso ai giocatori che ho avuto l'opportunità di allenare negli anni. Veramente in tutte le stagioni, a partire dalle stagioni, il mio percorso a Moncaglieri era iniziato con la C1. Quindi avevamo fatto C1, poi B2, poi non si chiamava più B d'eccellenza, era già diventata DNA, poi l'A2 e poi gli ultimi anni di A1. Sicuramente in tutto il percorso, giocatori come a partire dalla Serie C, che avevamo Maurizio Scurzio, che è un ragazzo che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, ma che ricordo con grande piacere, un giocatore bravissimo in quella posizione. Poi in Serie B avevamo un fuoriclasse per la Serie B, che era Cristiano Masper, che poi abbiamo avuto ancora nei campionati di B d'eccellenza, Simone Cotani, poi Stefano Mancinelli, Valerio Amoroso. Sono tutti giocatori che sono stati tutti grandissono attualmente, perché giocano ancora tutti, grandissimi interpreti del gioco spalla-canestro e dai quali ho potuto imparare molto, soprattutto dal punto di vista dell'insegnamento della tecnica individuale. Difatti, ancora oggi, quando posso scegliere con quali giocatori lavorare nel lavoro individuale la mattina, tendenzialmente scelgo i lunghi, perché mi piace insegnare la tecnica individuale del gioco interno e mi piace, come dire, lavorare su tanti aspetti, non che quelli degli esterni non mi piacciono, però, come dire, se posso c'è anche Andrea, credo, in chat, quindi anche Andrea, potrà confermare che quest'anno quando lavoravamo individualmente io prendevo i lunghi e Michele, allora, prendeva gli esterni. E quindi, niente, questo, diciamo, è un po' la genesi, perché quando mi hanno chiesto di fare un incontro con voi, l'idea è stata quella di parlare di questo aspetto del gioco. Per favorire un attimo il flusso del discorso, ho preparato una presentazione in PowerPoint con anche qualche video che spero che possa andare in maniera abbastanza rapida. Onestamente mi è capitato qualche volta di fare dei clinic, però di quelli normali, voglio dire, qui con quel computer, vediamo un attimino come siamo messi, per fare una roba che non annoi, che tenga tutti vivi e che possa essere interessante. Vedete la presentazione? Sì, la vediamo, vediamo il titolo col pallone spodding. Allora Marco, tu fai da moderatore, no? Ok, sì. La domanda, sì. Sì, sì. Quindi, chiaramente c'è libertà non solo di domande, ma anche di interventi sull'argomento. Penso che passate pure attraverso Marco, io mi fermo e ne parliamo. Come vi ho detto prima, non vorrei che venisse fuori una lezione, ma diciamo una chiacchierata sull'argomento. Allora, giocare con il giocatore interno. Allora, la prima slide che ho preparato è perché giocare con il giocatore interno, quindi quale tipologie di vantaggi noi possiamo avere nel pensare di mettere la palla vicino a canestro e allora ne ho scritto alcuni punti, chiaramente non sono gli unici, se poi qualcuno di voi ne ha in mente altri ce lo diciamo serenamente. Il primo è un'alternativa al gioco di pick and roll all'uscita e blocchi. È chiaro che oggi, per mille ragioni di cui potremmo stare qui a discutere in dieci di questi clinic, il gioco di pick and roll per tutte le squadre, io ho fatto anche poi una piccola ricerca statistica, ma sul pick and roll non c'è neanche bisogno di farla. È evidente che tutte le squadre hanno come nel pick and roll la collaborazione più utilizzata. Poi possiamo dirci è giusto, è sbagliato, secondo me semplicemente è come il gioco si sta andando in questi ultimi anni e non solo, quindi voglio dire non è strano. Uscite blocchi, soprattutto quando abbiamo giocatori in grado di interpretare questa tipologia di collaborazione e quindi se vogliamo avere una completezza all'interno del nostro sistema e quindi poter essere alternativi e cercare di essere sempre meno prevedibili, il fatto di mettere la palla vicino al canestro è secondo me una cosa che ci può dare grande vantaggio. Anche perché siccome vedremo dopo che non solo la percentuale di utilizzo di questo tipo di situazione delle squadre non è così elevata, questo banalmente fa sì anche che se lo uso poco sono anche meno abituato a difenderlo e quindi il fatto di andare a cercare di farne un punto di forza e quindi vado al punto 2, il punto 3, quindi sfruttare un punto di forza e punire una debolezza può essere un punto di forza individuale, nel senso che io ho un giocatore molto bravo in quella situazione, allora vado a dargli la palla. Posso decidere di attaccare un giocatore della squadra avversaria che mi interessa mettere sotto pressione perché non è un buon difensore, perché è un giocatore importante degli altri e quindi se fa dei falli io comunque alla fine nei 40 minuti ne ho un dividendo positivo, ma in generale visto che tante squadre non lo usano, fa sì che anche durante la settimana, salvo magari il momento in cui vanno a preparare la partita, lo difendono anche poco e quindi io vado a giocare su una situazione per la quale il mio attacco è molto probabilmente più forte dell'organizzazione difensiva degli altri e questo secondo me è un vantaggio per questa situazione o per qualsiasi altra, cioè il concetto è se cerchiamo di essere, come dire, se riusciamo a essere bravi nel non essere canonici, secondo me alla fine abbiamo dei vantaggi. Costringere la difesa a chiudersi, è chiaro che nel momento in cui la palla va in post basso, chiaramente se la mettiamo ad un giocatore, passatemi il termine, degno di rispetto, chiaramente non dal punto di vista umano, evidentemente, dal punto di vista tecnico, mettiamo la palla lì e quindi qualcosa la difesa dovrà può fare per pensare di andare a contrastare il vantaggio che noi possiamo prendere e di conseguenza questa cosa può lasciare un pochettino di più di spazio sul perimetro, per esempio se penso a delle squadre con grande aggressività perimetrale, magari il fatto di giocare tanti pick and roll contro questa tipologia di squadre non è un vantaggio così grande, quindi cerchiamo di tenere la palla sul perimetro dove loro sono molto bravi a difendere, allora magari provare a mettere la palla vicino a canestre, costringerle a chiudersi, potrebbe darmi dei vantaggi. A questo punto vado al punto l'ultimo prima di parlare di quello precedente, creare movimento degli altri giocatori, perché metto la palla vicino al canestro con l'idea di isolare il giocatore, ma quello che fanno le squadre mediamente non è quella di mettere la palla e quattro giocatori che guardano. Questa cosa può avvenire magari con giocatori di grandissima tecnica o con un'efficacia così grande che la cosa migliore è lasciargli spazio e quindi stare tutti larghi e lasciargli lo spazio per uno contro uno. Per esempio, se penso a quando a Torino in A2 abbiamo avuto Stefano Mancinelli, lui era un giocatore che aveva un'efficacia talmente grande nel giocare uno contro uno, pur con due movimenti, ma che sostanzialmente la difesa non riusciva quasi mai a toglierli, che la cosa migliore era cercare una spaziatura la più larga possibile sul perimetro, in modo che eventuali raddoppi potessero essere puniti con tiri piedi per terra con metri di spazio, perché oltretutto Mancine è un giocatore straordinario nel passare la palla. Però mediamente quando mettiamo la palla vicino al canestro cerchiamo di creare dei movimenti degli altri giocatori in modo da uno lasciare spazio al giocatore che gioca su uno contro uno e due provare a colpire la difesa su un contromovimento dove magari non è pronta, come vediamo poi magari dopo in alcune clip che vi ho messo. Un'altra cosa per cui mi interessa andare dentro è il concetto di prima di punire una debolezza, comunque di attaccare e guadagnare falli. Ho messo tra parentesi inizio partita perché? Perché solitamente ad inizio partita il tenore dei fischi è un pochettino più rigido. Cosa voglio dire? Che determinati contatti che vengono concessi magari nel quarto quarto, negli ultimi cinque minuti, quando la partita è tirata, non sono quelli che vengono concessi all'inizio della partita, dove gli arbitri tendono a fischiare un pochettino di più perché in quel momento stanno, come dire, settando il metro arbitrale. Quindi il fatto di andare, non è raro, voglio dire, che andare dentro tre, quattro volte subito all'inizio della partita non ci porti a casa magari un paio di fischi. Che magari lì per lì sono uno o due falli, ma come vi dicevo prima, nell'economia dei 40 minuti della partita è comunque un'altra di quelle situazioni che alla fine può tornarmi, come dire, a vantaggio. mi è capitato per esempio negli anni di Serie A, noi avevamo un giocatore straordinario in attacco, che era DJ White a Torino, ma come dire, non così determinante dal punto di vista difensivo. Il game plan da un certo punto in poi delle squadre avversarie, noi sapevamo che i primi cinque possesse andavano ad attaccare gli spallacanestro, perché è una cosa logica da fare. Lo costringo magari a fare un fallo, oppure lo costringo a non difendere se faccio canestro. Quindi secondo me, soprattutto all'inizio partita, nell'economia generale, se possiamo, se abbiamo i giocatori per farlo, potrebbe essere un vantaggio andare a mettere la palla vicino al canestro. Piccoli, scusate, lunghi, ma come vedremo dopo, anche gli esterni. Perché dicevo che tante squadre utilizzano anche gli esterni vicino al canestro. Noi per esempio quest'anno l'abbiamo fatto molto con Guido Rosselli, che è un giocatore, diciamo, di grande taglia e quindi è un peccato non usarlo, anche perché, come dire, come vi ho detto prima, non ci sono poi così tanti lunghi che siano in grado di farlo con continuità o quelli che ci sono, voglio dire, sono quelli che possono permettersi, voglio dire, le migliori cinque squadre d'Europa, anche se come vedremo dopo non è detto che sia così. Allora, io ho fatto un'analisi così, statistiche, i dati sono presi da Synergy, penso che tutti voi sappiate cos'è Synergy, se qualcuno non sa cos'è Synergy me lo chieda e in un secondo glielo dico. Comunque, diciamo, è un database che raccoglie, diciamo, tutti i dati statistici dei campionati del mondo, dei principali campionati nel mondo. Allora io ho preso tre esempi, ho preso l'Eurolega come massimo livello europeo, ho preso la Serie A italiana e ho preso poi il campionato di Lega 2, che è il campionato a cui ho partecipato io in questa stagione. Allora, diciamo, qualcosa su cui ragionare c'è guardando i dati. Per esempio, in Eurolega ho messo le top 3 e l'ultima. Allora, la prima squadra per utilizzo delle situazioni di post basso in Eurolega è il Bayern Monaco, che utilizza circa 13 possessi a partita ed è il 16,6% dei possessi totali. Poi c'è lo Zalgiris, Alba Berlino e l'ultima è l'Efes. Allora, voi siete tutti appassionati di pallacanestro, sapete meglio di me che l'Efes è la prima squadra in classifica in Eurolega. La squadra che ha vinto, adesso non vorrei dire stupidaggine, però credo 11 partite di fila, che praticamente ha dominato la competizione fino alla chiusura ed è comunque l'ultima squadra per utilizzo del pol basso. Questo perché? Perché vi dicevo che soprattutto col salire del livello le tendenze del gioco stanno andando in un'altra direzione. Mentre Alba Berlino e Bayern Monaco sono due squadre non top, ma sono quelle che hanno l'utilizzo più elevato del gioco di post basso, insieme allo Zalgiris Kaunas, che è una squadra diciamo borderline tra i playoff e non, che ci va in maniera abbastanza costante. Ma vedete comunque parliamo di quasi 12 possessi a partita, circa il 15%. Tutte queste squadre hanno un utilizzo di pick and roll che è superiore al 30-35%, fino al 40% anche. Cioè l'Efes è la squadra che utilizza di più il pick and roll di tutte e arriva quasi al 50% dei possessi, sono in situazioni di pick and roll. Quindi sicuramente hanno grandissimi vantaggi. Perché? Sicuramente bisogna rifarsi al personale di squadra. il Bayern Monaco a Greg Monroe, che è un giocatore dominante, quindi voglio dire che mi sembrerebbe veramente un delitto non dargli la palla. Zalgiris ci va molto con gli esterni, Ulanovac, Zach Ledei, l'Alba Berlino, l'Andri Noko. Quindi chi ha questi giocatori cerca di utilizzarli. Nel campionato di Serie A la prima per distacco è la Dynamo, che è una squadra che già nell'anno scorso ha, come dire, dato un imprinting molto chiaro del suo modo di giocare utilizzando il post basso. L'anno scorso con, soprattutto, Jack Cooley e Russian Thomas, quest'anno Bilan, Evans, Pierre negli esterni, che è un giocatore straordinario giocando le spalle a canestro. E diversamente da quello che abbiamo visto per l'Eurolega, dove l'Efes è l'ultima per l'utilizzo, ma la prima in classifica, con Sassani possiamo dire che, parliamo di una squadra che ha fatto la finale Scudetto, che ha vinto la Supercoppa italiana e che quest'anno è stata per tutto l'anno ai vertici della classifica, andando anche ai play-off di Champions League. Quindi una squadra che ha grandissimi vantaggi all'interno del loro sistema nell'utilizzare tanto il post basso. E se vedete i dati, sono la prima per distacco nel campionato di Serie A, perché la Dolomiti in a Gia Trento, che è la seconda, e quindi se pensate un po' al roster di Trento, e chiaramente Alessandro Gentile è il giocatore che sposta di più questa statistica, c'è quasi un 6,5% di differenza che è tantissimo in termini di numero di possessi. Quindi Sassani è un esempio virtuoso dell'utilizzo di questa tipologia di collaborazione. Reier-Venezia, l'ultima squadra con un dato veramente bassissimo del campionato di Serie A è Varese, che utilizzava meno di tre possessi a partita e meno del 4% di possessi totali in post basso. Se voi avete visto partite di Varese, penso che abbiate notato come veramente loro la spalla-canestro non la danno mai, perché il loro gioco si basa su un'altra tipologia di collaborazione. Sono la squadra nel campionato di Serie A, parallelismo con l'Efes, che gioca meno possessi di post basso, ma gioca più possessi di pick and roll in assoluto, e quindi i loro vantaggi vanno a prenderli attraverso la circolazione di palla sul perimetro, l'attacco dei close out e la ricerca del tiro a tre punti. Che è l'esatta controtendenza rispetto a quello che fa Sassari, per esempio, perché Sassari attraverso il rifornimento continuo del post basso, cerca in realtà i tiri da due punti, che sono quelli che secondo me poi quando si va avanti, soprattutto parlo di playoff, quando si gioca come dire, quando conta veramente, magari essere un pochettino meno dipendenti nel tiro da tre punti può essere un grande vantaggio, perché poi il pallone pesa, le percentuali scendono, il fatto di potersi aggrappare anche ad altre tipologie di soluzioni, dal mio punto di vista dà dei vantaggi. A me personalmente nei campionati che ho fatto, diciamo, quelli di più successo sono stati, voglio dire, a parte la parentesi di Coppa Italia con Torino, abbiamo fatto stagioni dove non abbiamo mai fatto i playoff, però non eravamo mai contender. Però negli anni dove eravamo diciamo con Torino la squadra più forte, anche quest'anno con Verona abbiamo usato abbastanza il gioco di post basso, ho sempre avuto la sensazione che andando avanti e avere la possibilità di giocare lì, quando abbiamo giocato i playoff, secondo me c'è dato dei vantaggi veramente grandi. Venendo al campionato di Lega 2, anche qui possiamo vedere come la squadra che utilizzava di più il post basso di tutte è Ravenna, che utilizzava il 16,6% col 20% di possesso totale, quindi un dato paragonabile a quello della Dinamo Sassari e Ravenna è stata la squadra che ha perso meno partite in tutto il campionato di A2. Aveva un giocatore punto di riferimento che era Charles Thomas, che sicuramente è un giocatore talmente bravo in quella situazione che penso sia abbastanza complicato a non dargli la palla, ma era anche una squadra che aveva soluzioni in post basso per 5 giocatori, perché loro al di là del fatto che lo dassero un pochettino di più e un pochettino di meno, però avevano situazioni in post basso per il playmaker, per la guardia, per l'ala piccola, per l'ala grande e per il centro. Era l'unica squadra di tutto il campionato di Lega 2, Girone-Est, che è quello a cui ho partecipato io e quello che abbiamo scautizzato, che aveva soluzioni in post basso per 5 giocatori. Poi magari non le utilizzavano tutte le partite, facevano delle scelte anche in base all'avversario, tranne che per Charles Thomas evidentemente, che cercano con continuità, però è una squadra che ha fatto nel gioco in post basso un marchio di fabbrica assoluto. Poi Ferrara, e anche qui guardate i giocatori che aveva Ferrara, Fantoni, Baldassarre, ma anche soprattutto negli esterni, Follarin Campbell e Vencato, che è un playmaker di grande taglia, anche loro avevano un dato abbastanza significativo nel gioco di post basso. Ferrara è stata sicuramente una delle sorprese di questo campionato, perché squadra, diciamo, non accreditata per l'alta classifica è stata nelle prime 4, fino a quando il campionato è praticamente terminato. È uscita per poco dalle finale di Coppa Italia, però ha fatto un campionato di straordinario livello. Trapani, con dati simili a quelli di Ferrara, un po' meno possessi, ma una percentuale più elevata, leggermente più elevata del numero di possessi. L'ultima squadra della Lega 2 era Biella, e anche qui possiamo dire che non sia stato garanzia di insuccesso non dare la palla dentro per loro, perché comunque parliamo di una squadra che alla fine del giorno d'andata erano quindi in classifica. Quindi non per forza, secondo me, il fatto di non utilizzare questa collaborazione è una garanzia di insuccesso. Mi viene però da pensare che il fatto di usarla e usarla bene sia una garanzia di successo. E chiaramente dobbiamo sempre rifarci a quello che è il personale che abbiamo a nostra disposizione, che è la chiave. Nel costruire le squadre negli ultimi anni, con i capi allenatori con i quali ho collaborato, abbiamo sempre cercato di cercare almeno un giocatore nei lunghi, almeno un giocatore degli esterni che potesse essere efficace. E allora qui, secondo me, viene un attimino l'idea che vogliamo mettere in campo. La leggo esattamente come scritta e poi la commento. Allora, vogliamo creare l'abitudine di giocare con l'interno e non per l'interno. Questo fa sì che dovrà essere anche il giocatore interno stesso capire come mettersi nelle condizioni di giocare insieme ai compagni di squadra. Forse l'ultima riga non si legge benissimo perché c'è, diciamo, un po' di... lo sfondo non era dei migliori. Allora, l'idea. Giocare con e giocare per, anche se può essere semplicemente come dire, una piccola congiunzione, secondo me fa la differenza più totale. Ci sono giocatori, obiettivamente, che diventano insofferenti se non toccano la palla e questo è un argomento sicuramente che noi dobbiamo tenere incontro e che magari avrebbero la pretesa di toccarla a tutti i possessi. Allora, è una cosa che si può anche fare, secondo me. Il fatto di dare tocchi ai giocatori interni, secondo me, è una cosa importante. Però poi dobbiamo capire come vogliamo giocare all'interno di un'organizzazione di gioco di 40 minuti. Cioè, noi abbiamo, come dire, un giocatore molto efficace, gli diamo la palla dentro e gli altri quattro guardano. È una cosa che possiamo fare per un numero limitato di possesso all'interno della partita. Se invece vogliamo pensare di giocare il gioco di post basso in maniera efficace, dobbiamo pensare di giocare insieme. E quindi, non solo gli esterni devono pensare a come fare a giocare con il lungo, con l'interno in generale, che sia un lungo che sia un piccolo, ma deve essere anche il giocatore interno a porsi il problema di come fare a essere efficaci nella collaborazione con gli esterni. E quindi, chiaramente, concetti di spaziatura, come muoversi e come rendersi pericoloso, al di là delle situazioni specifiche o delle chiamate che noi andiamo a fare. Noi magari abbiamo 3, 4, 5, 7, non lo so, 10 chiamate per andare in post basso. Però ci sono tante altre situazioni in cui i giocatori interni possono essere pericolosi e dare quella profondità al gioco che noi ricerchiamo per fare in modo che la difesa possa chiudersi e riaprirsi continuamente e quindi darci dei vantaggi. Allora, la prima cosa, molte cose le ho messe in video, che secondo me poi scorre meglio, però qualcosa ho messo in diagramma. Il primo punto, per esempio, è quello della transizione offensiva. Quindi qui pensiamo ad un flusso a 5 giocatori, 2 ali, un playmaker che sta spingendo la palla, diciamo, si è già spostato in posizione puntando uno dei due gomiti, e i giocatori, diciamo, gli interni lunghi che arrivano a rimorchio. Allora, freccia verde ho scritto sì, freccia rosso ho scritto no. Allora, qual è il primo concetto che noi vorremmo dare al nostro giocatore interno, primo rimorchio, che sia il 4 che sia il 5, non è determinante, per poter già giocare con gli altri? Il fatto, per esempio, di occupare il quarto di campo opposto rispetto al quarto di campo dove stiamo spingendo la palla. Perché? Se il numero 5 tagliasse in fronte, freccia rossa, al playmaker, per andare subito ad occupare la posizione interna, che sia una posizione di post basso, che sia una posizione con due piedi dentro l'area perché va a sigillare contro il suo uomo, poco cambia. Questo farebbe sì che magari c'è una possibilità per lui di prendere la palla, ma toglie la possibilità al playmaker di fare una penetrazione e quindi di andare ad occupare un potenziale spazio vantaggioso. Se viceversa, nel movimento di corsa, l'occupazione dello spazio è sul quarto di campo opposto, abbiamo due possibilità. La prima possibilità è quella che il playmaker possa sfruttare un eventuale vantaggio con una difesa che magari non è pronta e non è in equilibrio per attaccare immediatamente il canestro, oppure che il playmaker si fermi piuttosto che una transizione utilizzata da tantissime squadre, passi la palla a due e poi si muova, diciamo, verso il lato debole, che è una cosa che si vede moltissimo, con due che si smarca riceve, diciamo, a 45 gradi il playmaker che passa e taglia. E a quel punto il giocatore interno ha lo spazio e il tempo per andare a prendere posizione sul lato della palla e giocare la posizione interna per farsi dare la palla uno contro uno. È chiaro quello che sto dicendo? Per ora non ci sono domande, Comas, quindi... Perfetto, io vado avanti. Interrompo io quando ci sono domande. Va bene, perfetto. Quindi il concetto è il lungo corre sul lato opposto alla palla e abbiamo già più opzioni che non avremmo se lui attagliasse dritto in fronte alla palla e occupasse subito la posizione di post basso. E da questa spaziatura mi aggancio alla situazione successiva, per esempio su una situazione di penetrazione in palleggio, questa è una situazione a quattro giocatori, le spaziature sono, diciamo, simili a quelle di prima col fatto che abbiamo, diciamo, due giocatori sul lato opposto alla palla, un penetratore e il giocatore interno, che come vedete è dal lato opposto alla palla. E quindi su questa penetrazione in palleggio, il primo movimento interno, quindi voi, quello che insegniamo normalmente, penetrazione che va verso la livea di fondo, giocatore interno che prende il centro dell'area, giocatore che copre l'angolo per dare subito una linea di passaggio, ma la chiave del movimento che dobbiamo provare di insegnare ai nostri giocatori è che se sulla prima penetrazione non c'è il passaggio diretto, lì può esserci solitamente un passaggio battuta a terra, un passaggio eventualmente lob, per andare a finire subito, non devono smettere di giocare, ma devono continuare a giocare con gli altri. Quindi con la palla che esce in angolo, ho cercato di insegnare in riga rossa, il concetto è questo movimento contro X5, che lì il giocatore interno non deve, come dire, o da un lato, voglio dire, smettere di giocare perché non l'ha presa, o pensare che deve cominciare a fare cose diverse, tipo prepararsi a correre fuori per andare a fare, per esempio, un blocco sulla palla al numero 3. Ma il primo movimento che gli chiediamo di fare è quello di andare contro X5, che era impegnato nell'aiuto sulla penetrazione di uno, per provare ad escluderlo e generare una linea di passaggio interna per un tiro ad alta percentuale, che secondo me fa tutta la differenza nel mondo rispetto a provare a, ok, mi muovo sulla penetrazione, non l'ho presa, bene, allora la palla va sul perimetro, corro fuori a fare un pick and roll. Magari ci correrò anche dopo fuori a giocare in una situazione di blocco sulla palla perché i secondi, come dire, stanno cominciando a scadere e allora devo arrivare ad una situazione. Però, se il primo movimento è un movimento di sigillo, già lì ho l'opportunità di, come dire, giocare con gli altri e giocare col giocatore interno. E come vedete qua non ci sono chiamate, vuol dire, è una situazione che può nascere da qualsiasi situazione, dalla transizione, piuttosto che da un'uscita dai blocchi. Anche da un pick and roll. Adesso vi ho messo qualche video. Le prime tre immagini le ho chiamate giocare insieme al di là degli schemi e vogliono provare proprio a richiamare questi concetti. Allora, la maggior parte delle clip sono della stagione di quest'anno di Verona, più c'è qualcosa che ho colto, diciamo, o con l'utilizzo, con l'aiuto di Michele Dallora dell'archivio degli anni precedenti di Verona o anche una clip che ho messo da una situazione che ho trovato l'anno scorso. Allora, questa è una situazione di transizione non particolarmente organizzata. Come vedete qua abbiamo... questi sono i nostri lunghi, quindi un giocatore, un nostro lui, un interno che è Poletti, sta sbagliato. Ok. Allora, due cose. La palla su questo quarto di campo, Candussi che corre sul quarto di campo opposto e già la cosa ci piace perché, per il discorso di prima, al di là che adesso Tomassini decide di rifare una cosa diversa perché legge la posizione di questo difensore e vede che il compagno che adesso in questo momento è ancora fuori schermo è libero. Ok. Quindi non è una situazione organizzata. Stiamo correndo nemmeno con particolare ordine nel senso che abbiamo il numero 3 che arriva a rimorchio e il numero 4 che invece è davanti alla palla ma ci interessa poco. Quello che ci interessa è questo. La palla vola. Guardate quello che fa Candussi in questo momento rispetto al suo difensore. Ok. La palla vola skip e il suo primo movimento è un movimento di sigillo o di seal come dicono gli americani. No, noi tanti termini alla fine li rubiamo dall'inglese e quindi noi qui lui già si sta mettendo in condizione di giocare con gli altri. Sigilla il suo uomo cerca di punire questa posizione di mortellaro in questo caso la partita qui è a Sansevero e con un movimento di palla continua a giocare. Ok. Lasciamo perdere le botte che volano sotto canestro falli, non falli. questo è il mestiere. Ok. E creiamo subito una linea di passaggio per quello che è un tiro a alta percentuale. Quindi non stiamo giocando niente semplicemente lui è stato bravo nel momento in cui la palla volava da un lato all'altro invece per esempio di correre sulla tacca di andare contro il suo uomo e questo è il primo concetto che che mi piacerebbe sempre dare ai nostri giocatori interni. Questa è un'altra situazione. Ho sbagliato. Ok. qui diciamo c'è un'uscita sono io che sono indicappato su questa cosa chiedo scusa. Ok. Perfetto. Un'uscita di arriva un pick and roll la difesa difende Shaw questa è Ravenna quindi al di là del fatto che questo passaggio sia il passaggio più giusto o meno contro contro la difesa che fa Shaw cosa succede? Che qui Esbro vede la posizione vede Charles Thomas che aiuta il passaggio che arriva a Udom dietro il pick and roll e ancora una volta Candussi poteva farlo un pochettino meglio nel senso che avrebbe potuto andare proprio con il corpo contro Chiumenti che stava recuperando comunque diciamo che la palla la prende si è messa in condizione e qualcosa di buono viene fuori. Ok. E quindi la rivediamo anche qui era un gioco che prevedeva un'uscita e un pick and roll dal pick and roll abbiamo preso quello che c'era siamo andati dentro e abbiamo trovato un tiro che per un giocatore con le caratteristiche di Francesco che ha le mani molto buone è un tiro ad alta percentuale. Ok. Altra situazione questa è una rimessa da fondo sempre Ravenna stiamo parlando della partita della partita di ritorno. Ok. Ok. questo vabbè un blocco cieco di ingresso che stramaledico da solo blocco cieco uscita al di là di quello che è il movimento c'è un down screen e poi ancora una volta subito la palla dentro. Ok. La qualità del blocco non era non era eccezionale però diciamo che come dire i giocatori perfetti da questo punto di vista non ce ne sono sicuramente che andussero nel miglior bloccante che esista sulla faccia della terra però ha quelle mani là e quindi poi dopo voglio dire è un peccato non dargli la palla. Quindi questo è un esempio attraverso tre immagini della stagione di quest'anno di quello che intendevo prima nel dirvi di giocare con e non di giocare per. Quindi tre situazioni in cui abbiamo avuto l'opportunità di mettere la palla vicino al canestro che non nascevano da situazioni diciamo dichiarate per andare in post basso ma che sono state letture e interpretazione dei giocatori all'interno all'interno del gioco. Ok? Se non ci sono domande vado avanti. Non ci sono domande puoi andare avanti. Allora adesso sempre nel concetto di di giocare con ho scritto sopra il titolo è weak side action quindi un'azione che si sviluppa sul lato debole. Allora lo scopo di queste clip cos'è? Come vi dicevo prima la palla quando la mettiamo spalla canestro vorremmo sempre cercare di creare dei movimenti degli altri giocatori in modo da rendere pericolosi gli altri e mettere sotto pressione la difesa che magari in quel momento è preoccupata di difendere un giocatore vicino al canestro come dicevamo prima un giocatore credibile nel gioco in post basso e noi magari andiamo a creare dei movimenti per avere la possibilità di punirla anche in un altro modo allora questa è una situazione semplice come vedete il setup di di inizio è quello di di una doppia uscita quindi abbiamo il giocatore che vogliamo isolare in post basso da questo lato di cui c'è il secondo lungo i due esterni e il giocatore playmaker allora uscita perfetto allora vi chiederei di concentrarvi in questa fase su quello che succede qua ok allora qui abbiamo creato la situazione di allineamento ok non sto che non sto a dirungarmi perché tanto sapete tutti di quello che sto parlando quindi c'è questa condizione che mi permette di poter passare la palla al giocatore al giocatore interno quello che vogliamo succedere dal lato debole è questo col nostro secondo lungo portare un blocco cieco sul giocatore in punta per attaccare questa zona nel campo e se non abbiamo preso un vantaggio in questa situazione cosa che potrebbe anche non succedere ma lo mettiamo già in conto perché non per forza il timing di questa azione corrisponderà alla possibilità di Francesco di passargli la palla avere poi un ulteriore blocco e un ulteriore uscita sul lato debole per il nostro migliore tiratore che è Esbro in questa situazione voi vedete vedrete come si sviluppa l'azione sul lato debole ma vedete che Candussi comunque gioca il suo 1 contro 1 che è quello che vogliamo ok quindi lui non deve per forza giocare per gli altri ma giocando con gli altri lui ha una situazione in cui può giocare uno contro uno gioca uno contro uno ma sul lato debole non è comune che vogliamo muoverci ok chiaro qui una situazione simile voglio dire il concetto non è lo stesso gioco ma il concetto per cui si materializza la possibilità di dare la palla dentro è lo stesso che avevamo prima boom e meglio se la faccio andare direi ok qui abbiamo Rosselli che gioca nel 4 ma ci importa poco l'uscita di Esbruck lettura della difesa c'è lo spazio per attaccare per attaccare a Ricciolo e lui attacca Ricciolo su questa situazione e quindi come dire abbiamo messo la palla dentro abbiamo creato un movimento sul lato opposto della palla abbiamo preso un vantaggio importante poteva essere un tiro ma la lettura giusta è stata questa perché vedendo chiaramente di essere inseguito come lui spesso era sulle situazioni di uscita dei blocchi essendo un tiratore movimento curl abbiamo ottenuto il massimo di quello che volevamo ottenere un canestro facile da sotto questa era la tipologia di collaborazione che noi abbiamo usato abbastanza quest'anno cioè cercare di creare movimenti che coinvolgessero il lato debole è evidente che ci sono tanti modi di fare le cose e invece tante squadre fanno scelte opposte cioè nel momento in cui la palla viene passata dentro cercano di muovere i giocatori sul lato forte per creare tagli uscite dai blocchi ho preso ad esempio quello che faceva Forlì che è una cosa che abbiamo guardato con interesse quando abbiamo preparato la partita contro di loro e quindi come loro decidevano di collaborare quando la palla andava dentro invece di utilizzare dei movimenti di lato debole utilizzavano dei movimenti sul lato forte e quindi c'è una situazione semplice per portare il giocatore interno in questo caso Bruttini a prendere posizione interna quindi un blocco cieco diagonale adesso in questa situazione vedete che dal lato debole comunque c'è un movimento che è il movimento di Oxiglia perché vede il suo uomo che sta attaccato e quindi gli prova a fare un taglio ma il movimento che poi diventa cruciale sarà questo movimento di Giacchetti che gioca dai e vai ok ve la faccio rivedere ok palla dentro a Bruttini che comunque è un giocatore che può giocare un su uno contro uno lì dentro c'erano delle clip dove lo faceva adesso per non fare per non mettere 50 clip diciamo ho deciso di mettere solo quelle dove si vedeva il movimento che facevano però movimento dal lato forte un semplice taglio dai e vai e anche loro come dire un'idea diversa ugualmente efficace un'altra situazione sempre di Forlì ok sempre la stessa situazione di ingresso per dare la palla a spalla e canestro ok vedete qui la palla ritorna ma poi viene passata dentro il taglio di giacchetti di prima unito ad un'uscita dai blocchi di Marini ok ok la palla entra questo movimento che diciamo era quello che loro volevano fare sempre adesso questo giocatore che è il secondo lungo se voi vedete questo difensore è completamente orientato se vedete dove sta guardando in questo momento completamente preoccupato di quello che sta facendo bruttini nell'uno contro uno contro l'oson ok questa è Mantua e quindi di conseguenza perde di vista il suo uomo un tiratore a questo punto nel momento in cui vedete c'è la reazione perché capisce che Marini ormai si sta muovendo è troppo tardi e quindi qui attraverso questo blocco portato sul gomito c'è un grandissimo vantaggio per un tiro in uscita dai blocchi ok quindi due situazioni dove chi ha avuto la palla dentro non ha giocato e soprattutto non ha forzato la situazione di uno contro uno ne sono nati due canestre di natura completamente diversa perché una era un tiro da sotto un altro era un tiro da tre punti però con grande efficacia nell'aver messo la palla a spalla a canestro adesso ho messo quest'altra clip che riguarda la squadra di Francoforte dell'anno scorso che è una squadra che abbiamo incontrato in Eurocup che utilizzava una situazione di post basso ma che in realtà come vedrete tra poco aveva uno scopo diverso quindi hanno appoggiato la palla a spalla cadestro questa è semplicemente una situazione di ingresso di double eye la palla che va a spalla cadestro al loro numero tre anche in questo caso un giocatore efficace comunque nel gioco di post basso adesso al di là della ricezione come vedete è distante dalle tacche ma che comunque può essere una ricezione interna che comunque ha una sua dignità per fare per fare tante cose quindi giocatore credibile che prende la palla in post basso giocatore che vogliono attivare l'esterno dal lato opposto questo giocatore è Brady Eslip che qualcuno di voi potrebbe ricordarsi anche in Italia è tiratore canadese che ha giocato una stagione a Cantù giocatore micidiale in uscita dai blocchi ok passaggio e taglio dei playmaker in una situazione molto simile a quella che utilizzava prima Forlì la differenza è che qui Forlì ci metteva un giocatore un lungo loro invece ci mettono un numero 3 playmaker che passa e taglia che è questo giocatore qua è Jason Clark quello che era a Varese quest'anno e poi anche qui vedete la situazione già di gravi difficoltà in cui si trova il difensore del tiratore che deve difendere addirittura su due blocchi su uno stagger e qui non può fare altro che arrivare in ritardo non arriva particolarmente in ritardo cioè contesta il tiro anche in una maniera come dire onesta però qui non siamo in A2 siamo in Eurocup e quindi con un livello dei giocatori che sale e di conseguenza voglio dire lo spazio che ha Eslip in questa situazione qua è già lo spazio sufficiente per poter fare un tiro ok va bene vado avanti allora a questo stiamo parlando di situazioni dove abbiamo messo la palla spalla canestro per creare situazioni diverse ok adesso vado su su un altro topic che è quello del post basso degli esterni come vi dicevo quest'anno con Guido Rosselli che è un giocatore che io avevo già avuto l'opportunità di allenare negli anni di Torino abbiamo ricercato situazioni per isolarli in post basso proprio perché la sua taglia parliamo di un esterno fondamentalmente di oltre due metri con ottime capacità di passaggio faceva sì che fosse diciamo veramente come dire un delitto averlo e non utilizzarlo avevamo diverse situazioni vi propongo una situazione che utilizzavamo con qual'idea allora l'idea è che lui spesso aveva già un vantaggio abbastanza importante nel giocare contro i pari ruolo per via di questa sua taglia ma noi per aumentare questa tipologia di vantaggio che lui aveva nel gioco interno avevamo una situazione in cui sceglievamo di questo è Severini che esce semplicemente da un blocco verticale di portare un blocco con lui cioè creare come dire una specie di arrocco per far sì che invece di giocare post basso contro il numero 3 lui andasse a giocare post basso contro una guardia ok perché quello che capita normalmente in questa situazione di blocco tra esterni è che le difese vanno a cambiare ok quindi cosa succede qui c'è un cambio difensivo quindi qui vedevate c'era Hassan che marcava ma nel momento in cui c'è il blocco è Giuri che va a marcare Rosselli qui non lo facciamo molto bene perché lo facciamo con fretta però un'altra cosa che vogliamo fare in seguito a questo suo movimento è che lui si tuffasse dentro per portare un blocco il più profondo possibile al nostro playmaker qui non lo facciamo bene per due motivi un motivo principalmente perché questo giocatore che è Prandine invece di portarsi sotto canestro sta in questa terra di nessuno fondamentalmente che fa sì che il blocco non sia molto efficace in più c'è anche il lavoro discreto del difensore che fa questo lavoro diciamo a mettersi a frapporsi tra il blocco e Prandine ok per cui diciamo qui non avviene il blocco il motivo per cui ci interessava avere un ulteriore blocco qui e rapportare ad un ulteriore cambio ed avere possibilmente un giocatore ancora più piccolo come solitamente è il playmaker in questo caso di Caserta devo dire che tra Bianchi che difende su Prandine e Giuri che difende in questo momento su Rosselli non c'è una così grande differenza d'Italia e poi creare questa situazione dove poter dare o un passaggio verticale qui vedete che Giuri si mette davanti potrebbe non essere semplicissimo e Rosselli da playmaker interno vedete cosa sta facendo con la sua mano destra chiama il passaggio di triangolo a Udom e a questo punto andiamo a dare la palla dentro e anche qui a creare dei movimenti adesso con un esterno in post basso e con il numero 4 che è il passatore e che quindi gioca di fronte alla palla l'idea era quella di creare una situazione di split tra questi due giocatori questo giocatore qui è Poletti che è l'altro lungo e quindi come vedrete andrà a fare un taglio contro la posizione del suo difensore e quindi di creare questa situazione qua perché Udom davanti alla palla diciamo un giocatore che può fare un tiro ma non classificabile come tiratore e possiamo avere l'efficacia di portare un blocco in questa situazione qua a chi in questo caso è al playmaker ok cosa vede Udom qua in questa clip sostanzialmente una posizione del difensore già pronta diciamo a difendere sull'uscita blocchi o comunque con grande separazione da lui e la scelta corretta è di slipare il blocco di provare a fare un taglio per vedere se c'è questa possibilità ok di prendere un passaggio subito dentro non c'è ci rispaziamo e nel frattempo Guido gioca il suono contro uno e qui addirittura falle canestro e quindi come dire il massimo di quello che potevamo chiedere a questa azione un'altra clip contro un avversario diverso che è Roseto che è una squadra che gioca i cambi giocava i cambi sistematici come regola con tutti quindi stessa situazione di gioco questo pin down il blocco un cambio anche in questo caso non facciamo bene il blocco e qui ok giocatore che cerca di andare davanti e qui a differenza di prima lo spazio aereo è disponibile per questa tipologia di passaggio vedete qui la palla è già sopra la testa di Love che era il passatore e quindi passaggio Love con Guido Rosselli che è molto bravo a tenere questa posizione con l'avambraccio sinistro e a chiamare la palla ok quindi come vedete alla fine ci sono anche degli sputti per poter parlare di tecnica individuale e non solo di situazione di gioco perché la scelta del passaggio giusto in queste situazioni rende la collaborazione da totalmente efficace a completamente inefficace perché se qui per esempio scegliamo di giocare di triangolo dove la difesa è la più pronta o anche solo facciamo una tipologia di passaggio diversa o un passaggio non preciso chiaramente la palla lì non ci arriva mai e anche su queste cose ci possiamo lavorare con i giocatori ok ok qui arriva un raddoppio quasi triplicato e qui la differenza la fa poi la sua tecnica individuale riuscita a chiudere ad utilizzare diciamo una finta per far saltare un giocatore di questo questo ragazzo è un ragazzo interessantissimo di Roseto quindi come voi sapete del progetto Stella Azzurra che è 2,15 m ok quindi una finta di tiro lui salta e Roseto riesce a chiudere ok Marco vado avanti sì vai pure avanti non ci sono domande per ora come prima ok perfetto quindi vuol dire o sono molto chiaro o veramente non riesco a spiegarmi scherzo allora vado a quello che è l'ultimo topic che è come vogliamo coinvolgere il giocatore interno dopo una situazione di cambio difensivo allora quello che vi dicevo prima le caratteristiche dei giocatori stanno cambiando i 4 soprattutto sono giocatori sempre più perimetrali sempre meno interni il fatto che ci sia questa grande pericolosità perimetrale fa sì che la maggior parte delle difese decida di fare dei cambi difensivi in situazione di blocco sulla palla per andare proprio a togliere questi vantaggi di tiro allora quello che noi vorremmo almeno avere pur da giocatori che sappiamo non essere particolarmente avvezzi a giocare spalle canestro quello che vorremmo comunque provare ad avere è una certa efficacia diciamo almeno nelle situazioni di cambio difensivo per poter andare a punire questa tipologia di scelta della difesa prendiamo in considerazione dei cambi con il numero 4 in questo caso che sono quelli più comuni rispetto a quelli con il numero 5 che sono solitamente cambi di tipologia diversa per esempio al termine del possesso salvo chiaramente diverse possibilità diciamo della difesa che quindi magari ha dei giocatori anche nella posizione di 5 che possono cambiare all'inizio del possesso noi prendiamo in considerazione il 4 e prendiamo in considerazione delle situazioni di cambio all'inizio del possesso per le quali la nostra prima idea è provare a punire il mismatch interno perché se fossero dei cambi diciamo negli ultimi 8 secondi difficilmente avremo il tempo per andare a cercare l'interno ma dovremo come dire provare a giocare sul mismatch sul perimetro quindi questa è la prima situazione questa è un'immagine dell'anno scorso non perché quest'anno non lo facessimo ma perché questa era proprio perfetta quindi era un peccato non usarla ok allora c'è una situazione di blocco laterale il bloccante è il nostro numero 4 Mattia Udo ok quindi vedete un giocatore non un tiratore specialista però qualche cambio lo subiva diciamo nei blocchi qui anche magari per le caratteristiche di Legnano che ha due giocatori di taglia simile quindi c'è il cambio e c'è bene il suo movimento subito di tuffarsi dentro adesso qui ci potrebbe discutere un'ora se vi dico quello che amano fare i giocatori in questa situazione qua è che il giocatore con la palla qui mantenga diciamo la palla sul quarto di campo nel frattempo il quattro va diciamo a isolarsi contro l'esterno contro diciamo il mismatch sull'attacca grande e cerchiamo di dargli la palla dentro allora questa cosa sicuramente ha una sua dignità ok non è una cosa sbagliata in senso assoluto quello che però penso quello che però abbiamo pensato insieme ai capi allenatori con cui ho avuto l'opportunità di lavorare negli ultimi anni che giocare così può andare bene se sono situazioni sporadiche non se devo pensare di giocare e voglio punire i cambi difensivi per un numero di possessi significativo all'interno della partita perché altrimenti ottengo già di dare un vantaggio alla difesa rispetto ad una delle cose che la difesa cerca di più attraverso il cambio difensivo che cioè quello di farmi fermare la palla farmi pensare farmi portare la palla sopra la testa e non essere più pericoloso allora noi questa cosa non ce la possiamo permettere noi non possiamo permettere a una difesa che vuole fare i cambi di farci fermare il pallone per 40 minuti e cominciamo a mettere la palla sopra la testa e diamo la palla dentro e fermiamo in una situazione in cui peraltro la difesa potrebbe essere già organizzata ma vogliamo cercare di creare movimento di giocatori e al tempo stesso mantenere la pericolosità di andare a punire quel cambio quindi quello che facciamo in questa situazione la palla qui è già avanzata al playmaker ok vedete che questo giocatore Poletti che sta giocando in questa situazione da numero 5 si sta già portando verso il gomito anche per impedire eventuali cambi a 3 che potrebbero arrivare dal lato debole col secondo lungo e questo è uno dei motivi principali per cui vogliamo muovere subito questa palla e non fermarla perché se noi qui fermiamo questa palla per la difesa diventa estremamente facile organizzare un cambio a 3 e quindi portare il secondo lungo contro Udom quindi azzerare quella tipologia di vantaggio e qui attraverso una situazione di pick and roll dove magari il difensore non è così pronto a difendere vedete il lavoro che sta facendo Mattia dentro ok giochiamo questa situazione e vogliamo andare a colpire il mismatch interno ok e qui e qui avviene veramente con grandissima efficacia vi faccio rivedere la clip ok blocco cambio diciamo che non siamo non saremmo riusciti a colpire diciamo Udom con così grande efficacia subito all'inizio del possesso il movimento adesso non veramente come doveva continuare questo movimento Poletti dopo aver fatto questo blocco deve continuare a giocare e ha due opportunità adesso in questa spazzatura diciamo che due opportunità non ce le ha ce ne ha solo una che sarebbe quella di andare a fare un blocco a questo giocatore che è il 4 di prima che aveva cambiato e solitamente i numeri 4 non sono giocatori così abituati a difendere sull'uscita dei blocchi questo è un esterno e quindi se ora Poletti fa un blocco qui e vedete come che grande vantaggio in questa zona del campo può avere il tiratore in uscita dei blocchi se questo giocatore invece fosse stato come avrebbe dovuto essere più schiacciato verso l'angolo a questo punto Poletti ha due opportunità una quella di fare questo blocco e due quella di giocare uno short roll sul gomito quindi essendo un giocatore che ha nelle sue corde la possibilità di fare un tiro da media distanza vedete che per lui come potrebbe essere per Canduzzi per esempio che ha parimenti efficacia prendere un tiro da qui potrebbe essere un tiro ad alta percentuale tutto però possibile perché noi stiamo continuando a cercare di punire questo mismatch interno e cerchiamo di richiamare l'attenzione difensiva qui ok quindi stiamo giocando con l'interno in questo caso non gli diamo la palla ma giochiamo con l'interno anche nel creare dei movimenti sul lato opposto della palla che siano movimenti di collaborazione come un'uscita da un blocco o che siano dei movimenti diciamo di short roll quindi una lettura individuale di Mitchell che poteva prendere la palla e fare un tiro da media distanza ok tornando al discorso di prima che facevo sul riguardo alla tecnica il giocatore qui che passa la palla è Andrea Amato vedete la scelta di passaggio in questo caso è un passaggio battuto a terra e la cosa mi trova molto d'accordo perché qui il giocatore spinto da dietro perché sta lottando contro un mismatch può permettersi di mantenere il contatto e aspettare che la palla batta a terra per poter andare a prenderla e finire rispetto per esempio a un passaggio di tipo diverso un passaggio anche alto che in questa situazione ci poteva anche stare che però l'avrebbe portato un pochettino fuori equilibrio se avesse dovuto alzarsi sulle gambe e subire magari la spinta del giocatore del difensore che lottava per la posizione ok quindi anche qui uno spunto diciamo di tecnica individuale vado avanti a quella che sarà l'ultima clip ok sempre parliamo di quattro e parliamo di una situazione di cambi difensivi questa è una situazione a partita con Sansevero una squadra che utilizzava i cambi sistematici e quindi con come dire una preparazione a tavolino rispetto a quello che si voleva fare quindi il movimento del tutto simile a quello che abbiamo usato precedentemente per parlare dello smollo post degli esterni con Rosselli ok quindi c'è sempre un'uscita il giocatore è sempre Udom che blocca la palla con lo scopo di generare il cambio ok il blocco di cui abbiamo parlato prima che non abbiamo eseguito bene però anche qui saccaggi spangher o chi ci conviene attaccare può diciamo che più o meno potrebbe essere uguale quindi ci concentriamo molto sull'efficacia di questa profondità per poter avere la ricezione più vicina possibile a canestro bravo Mattia che è molto bravo in questa situazione di gioco interno a fare questi sigilli e quindi vedete come fondamentalmente i suoi piedi contengano di fatto i piedi del difensore e questo è già il segnale sul fatto che noi qui abbiamo un vantaggio e la linea di passaggio diretta peraltro qui c'è anche poca pressione del difensore sulla palla per cui ancora una volta la scelta di passaggio secondo me è quella corretta di dare un passaggio battuto praticamente vedete che lui ha un piede dentro lo smile due piedi dentro l'area l'idea è finire cosa fa Candus in questa situazione qua continua comunque a giocare occhi di spanghero orientati verso Udom questo blocco non lo farà con grande efficacia però vedete che questa situazione di blocco potrebbe portare un tiro piedi per terra in posizione 45 gradi a un giocatore come Tomassini che è un tiratore ok quindi comunque l'idea di continuare di continuare a giocare qui andiamo a finire la cosa ci va più che bene e finiamo con un tiro da sotto un altro dettaglio di questo movimento quando lo giocavamo con il numero 4 qui abbiamo Severini che è assolutamente un tiratore e un tiratore anche in uscita dai blocchi nel momento in cui c'è questa situazione di isolamento alto-basso per andare a colpire diciamo il giocatore interno sul lato debole c'è questo movimento di flare ok un movimento che coinvolge due lunghi ok quindi come ho detto prima giocatori non particolarmente abituati a difendere in situazioni di uscita dai blocchi ma soprattutto questo giocatore che potrebbe essere orientato a portare un aiuto verso l'interno per aiutare il suo compagno a coprire il mismatch e quindi nell'impossibilità se il blocco è fatto bene di difendere su un eventuale tiro da tre punti dopo un passaggio schifo ok e qui anche il fatto che Tomassini in questa situazione abbia la palla sopra la testa fa sì che possa essere efficace sia nel guardare qui che nel guardare qui ok quindi la possibilità di scegliere il passaggio sullo skip per un tiro da tre punti di Severini il passaggio interno per punire il mismatch che stiamo avendo con Udom in questa situazione ok quindi qui il blocco non era stato fatto in maniera particolarmente efficace però e qui andiamo a finire con un tiro ad altissima percentuale e questo diciamo è il modo in cui noi quest'anno abbiamo coinvolto i giocatori interni sul il 4 nelle clip che ho fatto vedere in situazioni di cambio io a livello di presentazione ho terminato e quindi direi che grazie innanzitutto allora la prima domanda te la faccio io ok soprattutto il Lega 2 ti è mai capitato che con la palla in post ok la difesa si mettesse a zona ok e che e come l'attaccavi e come l'attaccavi ecco allora proviamo come dire provo a coinvolgere a condividere lo schermo dell'iPad ok così vediamo se con la whiteboard perfetto si vede sì sì allora rispetto a quest'anno non più di tanto ok può succedere soprattutto quando ci vai con gli esterni perché allora perché attraverso se riescono a fare degli scambi e mettersi a zona ti portano ad avere un lungo contro un piccolo e quindi teoricamente ti azzerano il vantaggio spalle a canestro prendiamo una situazione però che può capitare che facevamo anche noi quest'anno ok provo a disegnare ditemi se si vede lui si vede allora diciamo che qui c'è il giocatore interno qui diciamo che c'è un passatore playmaker l'altro lungo è un giocatore esterno ok allora quando la palla andava dentro ci siamo il movimento che facevamo noi era questo ok allora cosa cosa può succedere in questa situazione qua allora questo x4 si vede si questo x1 questo x3 x5 x2 ci siamo ok allora una cosa che potevamo fare anche noi in questa situazione era questo giocatore cioè questi due diciamo andare di fatto a zona attraverso un cambio difensivo cioè non ci importava se fosse il 4 a salire ma lo scambiavamo con il playmaker mi sono spiegato ok prova a ridisegnare quello che dovrebbe avvenire allora quindi qui adesso abbiamo un 5 con la palla 2 4 è salito adesso o diciamo è almeno arrivato qui sul gomito uno disegniamolo qua ma poi vi farò vedere che non è lì ok e cosa succede attraverso quello scambio x2 x5 x4 che di fatto marca diciamo 1 il giocatore d'angolo x2 x1 ok ok chiudiamo Marco possiamo dire che praticamente siamo a zona su questa situazione abbiamo azzonato il lato debole sostanzialmente attraverso attraverso questi cambi difensivi giochiamo sul lato debole come se fosse zona ok il lato forte non ha senso perché c'è uno sulla palla e uno che difende la palla uno scusa uno che ha difeso il passatore e uno sulla palla quindi vi diciamo evidentemente come se fosse un uomo ok allora se vuoi punire questa situazione qua non avrebbe senso continuare con i movimenti di prima no ok perché fondamentalmente questi giocatori si scambiano se diciamo adesso questo giocatore qui va a portare questo blocco su x2 cosa farà la difesa ricambierà ok uno dice ok va bene cambia mi tuffo dentro cambieranno a 3 con l'interno allora quello che ha senso fare in questa situazione dal mio punto di vista cancello un attimo no come sempre quando quando gli altri vogliono cambiare se noi i cambi non andiamo a prenderci sarebbe meglio allora ci siamo allora questi giocatori qui vogliono cambiare x4 con x1 allora secondo me questo uno scusate qua era due adesso non ha senso che taglia se vogliono cambiare questo giocatore qui gli faccio fare un flare qua e allora vediamo che qua cosa devono fare organizzano una rotazione dall'angolo con 3 qua c'è un tiratore da 45% con i piedi per terra strada di recupero lunga ok un'altra cosa che si può fare anche in maniera molto più semplice quando questo giocatore qui sta salendo e quindi diciamo l'idea non è magari fare il blocco ma è semplicemente salire qui e qui ci sono i giocatori che si stanno organizzando per cambiare perché è chiaro che il cambio dovrebbe sempre avvenire a contatto ok però non siamo in un mondo perfetto ok quindi a volte i giocatori sbagliano anche semplicemente posizionarsi a giocare in questo buco qua quindi in una zona grigia della difesa già potrebbe essere semplicemente un movimento dove da qui faccio un tiro dal post alto contro zona voglio dire non diciamo tutti di giocare sul post alto diciamo che quindi già in questa situazione faccio un tiro dal post alto questa situazione qui di questo flare contro squadre che vogliono zonare quest'area qui è comunque un'area grigia cioè l'area dove non si capisce bene chi deve venirci a difendere e quindi il fatto di se vogliono zonare giocare un attimino sulle aree grigie è secondo me la cosa che dobbiamo provare a insegnare ai nostri giocatori è una tipologia di difesa che ha molto senso ha molto senso a volte anche perché perché quando trovi squadre che vogliono anche fare dei raddoppi per esempio potresti trovare delle squadre che vogliono organizzare dei raddoppi della riga di fondo ok allora qui avere un corpo grande un secondo lungo rispetto ad avere un corpo piccolo il playmaker può fare una grande differenza e quindi il fatto di zonare qui sul lato debole è una cosa che ha senso dobbiamo essere pronti ad attaccarla perfetto grazie mille sono arrivati delle domande ok aspetta che prova a guardarmeli in chat allora io te le dico intanto Possati Roberto chiede come alleni queste collaborazioni tante ripetizioni contro zero o subito con la difesa allora sicuramente all'inizio queste situazioni qui proviamo a farle contro zero ok però deve essere come dire se parliamo soprattutto delle situazioni in cui vogliamo per vedere come andare dentro come vogliamo muoverci reciprocamente alleniamo contro zero quindi facciamo magari c'è sempre soprattutto in pre-season c'è sempre magari un lavoro di sistema all'inizio degli allenamenti dove proviamo a magari un giorno si parla di pick and roll un giorno si parla di uscite dai blocchi un giorno si parla di come lavorare colpo sbasso dove mettiamo queste situazioni qui difesa contro zero però abbastanza presto perché sono situazioni comunque di letture andiamo a cercare di lavorarci con la difesa dico che un esercizio che noi utilizziamo molto è lavorare 4 contro 4 per la difesa è sicuramente uno degli esercizi migliori ma anche per certe situazioni per fare il breakdown dell'attacco 3 contro 3 4 contro 4 quest'anno da un certo punto in poi della stagione utilizzavamo soprattutto il martedì per fare questa tipologia di lavori e dove lavoravamo nei dettagli contro zero e poi mettevamo la difesa c'erano delle ragioni per cui avevamo una programmazione della settimana un pochettino diversa nel senso che non iniziavamo con un doppio allenamento ma iniziavamo il martedì con un allenamento singolo di primo pomeriggio e utilizzavamo questo allenamento per lavorare su queste collaborazioni qua contro zero con la difesa e poi le mettevamo nel 5 contro 5 selezionando un argomento diciamo alla volta ok perfetto la seconda domanda se non ho risposto io intanto ti leggo già la seconda domanda ok di Fabio Caspani dice indicazioni principali per un giocatore che deve passare la palla esempio la sponda uso delle finte allora allora la prima indicazione al giocatore che deve passare la palla è dove guardare ok e quindi per 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 guardare devo avere un corretto posizionamento del corpo e di conseguenza dei piedi quello che proviamo ad insegnare queste cose quest'anno dopo un po' dopo un po' di anni che non lo facevo sono tornato a lavorare anche nel settore giovanile quindi ho potuto divertirmi a provare a insegnare queste cose ai ragazzi e quindi è subito in una situazione di ricezione dove mettere i piedi prova ad aiutarmi con sempre con il disegno allora prendiamo un esempio di una situazione come quella che abbiamo visto prima ok quindi sull'alto basso quindi la palla è qui qui c'è il giocatore interno scusate non c'è la palla qui c'è un giocatore sale con un blocco sale senza sale ok e riceve allora prima cosa diciamo che questi qua in rosso sono i piedi allora i piedi così non mi interessano perché se io tengo i piedi così non ho assolutamente l'opportunità di porre lo sguardo dove mi interessa metterlo ok che è giocare col giocatore interno e non avere lo sguardo fin da subito nel posto giusto può vorre dire in molte situazioni la palla è non passarla in certe situazioni la passi in ritardo perché il livello è più basso e te lo permette in certe situazioni non la passi più quando il livello del gioco sale allora diciamo che vogliamo avere i piedi così ok come fare ad avere i piedi così tendenzialmente l'arresto che mi piace insegnare in queste situazioni di risalita è un arresto ad aprire ok quindi in questo caso è destro sinistro ad aprire piuttosto che sinistro destro a chiudere perché se faccio destro sinistro ad aprire ho la possibilità comunque di muovere la palla anche in direzione di eventuali giocatori che si trovano sul lato debole cosa che mi verrebbe molto più complicata se ci pensate è chiaro che disegnarlo magari mi rende molto più idea se uno può far vedere la cosa però se vado a stringere mi porto verso questa zona del campo mentre se vado ad aprire ho la possibilità di tenere sotto controllo anche tutta questa zona del campo quindi la prima indicazione del giocatore che deve passare la palla è dove deve guardare e per guardare come deve mettere i piedi poi sulla tipologia di passaggio come ho detto prima dipende molto allora che comportamento sta avendo il difensore di chi deve ricevere e il difensore di chi deve passare la palla allora chiaramente la situazione più difficile che può capitare magari se questo giocatore è un giocatore interno è che il suo difensore gli stia schiantato qua e sostanzialmente gli dica tira perché io ti voglio far tirare ok o a volte più ancora che qui stanno addirittura se sono organizzati bene stanno qua quasi a fare una sorta di raddoppio per impedire di dare la palla dentro allora è chiaro che se questo giocatore è un giocatore con poco tiro qui la situazione quel passaggio qua io te lo dico già non viene è impossibile che venga perché sostanzialmente è raddoppiato allora cosa fare in questa situazione qui per passare la palla la diamo sicuramente su un triangolo e poi proviamo a darle la palla dentro poi le collaborazioni che possono nascere qui sono mille e una perché se mi difendono così magari dopo che ho passato la palla vado addirittura a fare un blocco sulla palla ma questo è un altro argomento diciamo difese un pochettino più canoniche ok quindi difese che mi rispettano nel mio essere tiratore e quindi mi difendono qua cioè comunque un minimo di pressione me la metto a quel punto come ho detto prima stiamo già guardando dove vogliamo guardare se il giocatore qui è difeso là dietro e quindi diciamo è spinto l'idea è di fare un passaggio battuto in modo che il difensore possa tenere il contatto fino a quando la palla batte in per terra che è il segnale per potermi staccare e andare a prendere la palla se invece il giocatore qui è difeso davanti quindi ok e lo difendo là davanti il fatto di tenere subito la palla di tenere la palla sopra la testa e non diciamo sulle ginocchia per dire fa sì che io debba vedere il passaggio lob se lo spazio sulla riga di fondo me lo consente e quindi è una tipologia di passaggio che io devo insegnare se vedo che questo difensore qui è molto orientato all'aiuto interno come vi dicevo prima il passaggio verso l'angolo un passaggio skip quindi quindi qui cerchiamo tendenzialmente di metterci dei tiratori per fare in modo che questo aiuto non possa essere così forte o se no il passaggio di triangolo quindi andiamo a ribaltare la palla e a questo punto la tipologia di passaggio qui mi verrebbe da dire che è un passaggio una mano laterale una mano e mezza ok quindi un passaggio perché devo prendere in considerazione che molto probabilmente qui ci sarà un difensore che proverà ad anticipare ok e quindi qui diciamo che un passaggio circolare un passaggio una mano e mezza con la mano con la mano sinistra cercando di andare a colpire la mano esterna del mio compagno che se ho un buon lavoro me la chiama lì con la mano destra e le tipologie di passaggio che che mi interessa allenare in questa situazione qua che come già detto non sono nemmeno poche perché posso fare un passaggio battuto posso fare un passaggio lob un passaggio skip oppure un passaggio di circolazione cerchiamo di provare ad allenare tutte le situazioni attraverso il giocato ma anche se vogliamo attraverso i difensori che danno magari se abbiamo l'opportunità di farlo attraverso magari gli allenatori che danno delle letture all'interno del lavoro individuale e proviamo ad allenare anche le varie le varie tipologie di passaggio ok l'altra domanda di Pietro Rossi è questa come alleni il lavoro di sigillo nell'alleamento individuale eh allora guarda assolutamente in maniera molto semplice quest'anno c'era io l'ho fatto anche se no quando facevo io diciamo tenevo diciamo il lavoro coi lunghi il mio assistente con l'Under 16 che ogni tanto chiamavamo al mattino per aiutarci a lavorare in palestra che è veramente una persona super di grandissima personalità di grandissima personalità e anche disponibilità cosa faceva un bel cuscino di quelli per i contatti e si prendeva un sacco di mazzate sostanzialmente perché lavoravamo su movimenti di taglio rollate e lui praticamente attraverso il cuscino simulava il corpo del difensore quindi Udom Candussi Morgillo boom dovevano correre andarci contro sigillare farsi dare la palla e chiudere un lavoro sicuramente antipatico per chi lo subiva però diciamo abbastanza abbastanza utile nel lavoro individuale direi che sigillare contro il nulla non è un lavoro che è significativo perché nel senso immaginare di sigillare non può funzionare a volte puoi immaginare di giocare contro una difesa che fa un certo tipo di cose quindi capisci a livello di tua tecnica individuale come fare ma se in una situazione dove è così pregnante l'utilizzo del contatto fisico credo che sia impossibile simularlo e lo facevamo in maniera molto pragmatica lo facevamo così Ok l'ultima cioè una domanda te la rifaccio io tu hai avuto l'opportunità di lavorare sia con molti americani che con molti italiani nel refarto lunghi quali sono le differenze tecniche oltre a quelle fisiche che vediamo nei teleschermi o nei me tra le due quindi le differenze tecniche degli americani rispetto a quelle italiane Ma allora è una buona domanda ma ti dico la verità io ho avuto anche l'opportunità l'anno scorso di di lavorare con con l'Harry Brown no? come sai come al di là del voglio dire di come poi sia finita la storia voglio dire ma che sicuramente non è la responsabilità perlomeno non solo sua diciamo è stato molto interessante capire come come lui ha fatto anche negli anni sicuramente loro hanno qualche tipologia di movimento come dire io ho notato che tendenzialmente tendono a insegnare un po' di più di quello che facciamo noi il giro e tiro ok hanno un utilizzo un pochettino più libero dei piedi perni ma questo deriva principalmente dalle regole che hanno loro perché sostanzialmente voglio dire non è mai passi quindi loro fondamentalmente insegnano ai giocatori interni anche dei movimenti di incrocio che per noi sono passi sostanzialmente quindi possono essere possono anche essere interessanti sono anche efficaci ma l'efficacia è dovuta principalmente al fatto che cambia il perno e quindi per esempio DJ White come dire era bravissimo i movimenti di prendere e incrociare che nell'interpretazione attuale quindi del passo zero in situazione dinamica sono assolutamente efficaci ma nell'interpretazione di allora perché quando DJ non era qui vent'anni fa era qui solo quattro anni fa ma quattro anni fa il passo zero non lo interpretavano come lo interpretano adesso sostanzialmente capitava che gli facessi passi però di per sé nel momento in cui andiamo un attimino a non so come dirti canonizzare il fatto che chiede perno si può usare in un solo modo che è quello che utilizziamo qui da noi tutta tutta questa differenza in realtà non l'ho vista rispetto ai movimenti che vengono insegnati un pochettino più questo privilegio del del fatto delle situazioni di giro e tiro però poi sulla tecnica non c'è tutta questa grande differenza una cosa su cui puntava molto Larry Brown nel lavoro individuale era che i giocatori non dovevano avere mille movimenti lui diceva sempre per ogni situazione per esempio ti spingono sul fondo piuttosto che ti spingono sul centro ogni giocatore dovrebbe lavorare su un movimento favorito e su un quello che gli americani chiamano un counter move ok banalmente l'alternativa cioè il movimento che tu vai a fare nel momento in cui la difesa ti chiude il tuo movimento principale e quindi lo sostenevo sostanzialmente che ogni giocatore doveva avere un favorite e un counter e quindi lavoravamo su queste situazioni qui dando anche abbastanza spazio al giocatore su quello che era il loro movimento favorito che poteva essere diverso per esempio per McAdoo rispetto a Jaitè per fare un esempio però rispetto poi però alla tipologia di movimenti che vengono insegnati non ho visto tutta questa differenza ti dico gli americani sono sempre meno quelli che sono veramente bravi nella tecnica individuale del gioco spalla canestro cosa che da noi giocatori di scuola europea sono dal mio punto di vista un pochettino più efficaci ok perfetto sei stato molto gentile per ora non ci sono domande aspettiamo magari ancora un minutino come volete non so che ancora abbiamo fatto 12.37 vabbè qualcosa abbiamo fatto io ti ringrazio in anticipo per il tuo intervento sempre sempre utile e aspettiamo le domande e poi ci salutiamo se non ci sono va bene ok mi chiedono una cosa sì fosse possibile avere le slide sì quello allora le slide secondo me hanno un significato relativo perché a parte le prime 4 o 5 pagine sono poi delle clip io avevo già preparato un filmato unito con tutte le clip che ho mostrato ok e le slide posso comunque mandarle non ci sono problema andrei a mandare quelle scritte ok e non quelle diciamo dove c'è il video perché di fatto non sono molto significative però tutto il materiale che ho utilizzato sono assolutamente a disposizione ottimo lo mando a Michele va bene me lo mandi a mio fratello e io lo giro ai partecipanti ok domande non ce ne sono quindi Comazio ti ringrazio per il tuo intervento sono io che ringrazio voi faccio un grosso in bocca al lupo a tutti ci sono tante di queste iniziative in questo periodo sono tutte molto positive perché permettono un confronto che obiettivamente durante l'anno è più complicato avere e niente vi faccio un grosso in bocca al lupo per le vostre carriere nessuno sa ancora come e quando si riprenderà a giocare nella prossima stagione perché ormai questa è finita speriamo sempre presto possibile perché è molto bello confrontarci qui però sinceramente la palestra è una cosa migliore la palestra ci manca esatto grazie a tutti buon pomeriggio e arrivederci in bocca al lupo grazie Comaz crepi il lupo ciao 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 ciao